Benvenuti al nuovo appuntamento con l'agenda del tempo libero. Nel cortile del castello Visconteo di Abbiategrasso, venerdì 5 luglio, una serata dedicata alla musica lirica del maestro Roberto Scandiuzzi. Oltre post-summer festival è l'evento dell'estate 2019 in cui si incontrano musica jazz ed enogastronomia tipicamente lombarda, concerti a ingresso libero con degustazione di vini in luoghi altamente suggestivi. Venerdì 5 luglio alle ore 21 e 15 Amedeo Ariano Trio nella tenuta Monteglio di Codevilla. Sabato 6 luglio alle ore 21 e 15 Diego Borotti e Monica Fabbrini nella tenuta Frecciarossa di Casteggio. Sabato 27 luglio alle 21 e 15 concerto di Tiziana Cappellino Quintet al castello di Montesegale. Maggiori informazioni sulla pagina facebook del festival e sul sito www.oltrepostsummerfestival.it. A Montalto Pavese nel cortile di Palazzo Cristina sabato 6 luglio una serata all'insegna del jazz con la Patchwork Style Big Band. Sabato 6 luglio a Cervesina prosegue il successo dal vivo di Gino Paoli e Danilo Rea ed il loro spettacolo Due Come Noi Che, un concerto unico a base di voce, pianoforte e improvvisazione. Un prezioso esempio di come due artisti assoluti possano interpretare in modo innovativo alcuni classici della storia della musica italiana e internazionale. Una scaletta che si rinnova di spettacolo in spettacolo con le canzoni più amate di Gino, da averti addosso al cielo in una stanza, da vivere ancora a perduti passando per la gatta e come si fa, insieme a chicche dei cantautori genovesi che per Gino sono gli amici di una vita. Canzone dell'amore perduto e Bocca di Rosa di De Andrè, il nostro concerto di Umberto Bindi, Vedrai Vedrai di Tenko e Se tu sapessi di Bruno Lauzzi. Fino al 3 agosto, ogni sabato sera, a Stradella torna il caffè concerto nella sua edizione 2019. Proseguono i festeggiamenti in onore di San Defendente a Casso Novo che termineranno martedì 9 luglio. La programmazione riprende giovedì 4 luglio con il saggio di danza del Centro Arte e Sport. Venerdì 5 Abba Dream, Abba Tribute. Domenica 7 luglio Dick Dick in concerto. Come da tradizione lunedì 8 luglio fantasmagorico spettacolo di fuochi ed artificio e martedì 9 luglio corsa podistica. Durante la manifestazione vi ricordiamo la possibilità di cenare presso il bar Ristoro, l'Abba Dossi, Sabato 6 luglio arriva Nazzano Terme, un'escursione naturalistica lungo il sentiero dei Castagni Secolari. A bere guardo, domenica 7 luglio, la Proloco organizza nel cortile del castello Visconteo il mercatino delle vecchie cose. Domenica 7 luglio, concerto musica a San Dio Nigi presso l'auditorium di Vigevano con l'esecuzione della sinfonia numero 3 eroica di Beethoven. È tutto, per le vostre segnalazioni chiamate il numero 0381092525 oppure mandate una mail a pubblicitacchiocciolaterepavia.tv